Una vittoria importante è quella del Trapani che domenica scorsa ha battuto 5-1 l'Audacio Cerignola. Tornando dunque al successo dopo due pareggi consecutivi, il centrocampista del Trapani, Giuseppe Carriero, ha parlato della crescita del gruppo nell'ultima settimana. Perdere i punti con le piccole è un peccato perché poi alla fine pesano i punti. Abbiamo fatto qualche passo falso però non l'abbiamo mai perso ed è una cosa molto positiva perché crea una mentalità, è un'unione collettiva molto importante. Quindi è vero che magari puoi fare un pareggio in meno, fare una sconfitta e una vittoria però non perdere è importante. Poi sicuramente è capitato che magari nelle partite come Messina hai troppa voglia di vincere e poi magari rischi anche addirittura di perdere con un uomo in più. Quindi sono cose che abbiamo proposto, abbiamo sistemato soprattutto stas settimana anche perché nell'ultima partita è capitato più volte che magari sono rimasto un po' più legato al reparto difensivo piuttosto con l'offensivo per creare un po' più equilibrio perché abbiamo una voglia di andare a fare gol che attacchiamo a volte in 6-7 uomini e poi se l'azione non va come deve poi tocca ripiegare. Quindi stiamo lavorando per diventare una macchina perfetta, sarà difficile sicuramente ma la strada al momento è quella giusta.